Questa invece è la parte della fortezza più umana, più vera, la fortezza straniera, ma anche sincera Mi dispiace, ho avuto problemi fisici ieri, avevo le cose mie, altrimenti avrei potuto fare più video di Blobdip e farò la cosa, soltanto la cosa di base Ho dei problemi fisici, stanno pure oggi, belli imballati come i gampe, le gampe che non girano Quello è il fiume, c'è anche un fiume Questo dovrebbe essere il bagno Vedete, la cosa che vuole è che ogni cosa è da su un parcheggio Questa sale da qua pure Tanti auguri a chi sale da qua E poi ta 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 ta, parcheggio Le montagne ne vado, che figuriamo Anche se ieri ha diluito la neve E oggi Questa giornata un po' estiva, diciamo, rispetto agli scorsi giorni Oppela, oppela, oppela Questa giornata un po' estiva, sta sciogliendo la neve dappertutto Questa giornata un po' estiva